Unico Zombie Apocalypse Ciao a tutti e ciao a tutte Allora, nuovo video, beauty finiti e casa Allora, dunque, qua come vedete ho la busta di fianco a me E adesso proseguiamo con i prodotti a buttare via e da recensirvi ovviamente Allora, l'ultimo prodotto vi mostro la barchina Perché con questa cilaba a terra, ovviamente E mi è piaciuta, molto buona e pulisce molto bene in terra Ed ha anche un po' di fresco, una bella aria pulita Questa parecchina Poi, oggi dietro di voi, perché sono, non so, sotto il tavolo, non so dove poggiare Altrimenti Allora, poi, Mantovani Mantovani, poliallergenico, bagno doccia, neutro Formula extra, delicata Vaniglia, clinicamente testato Della Mantovani, molto buono Bagno doccia Profumazione, fantastica E niente Poi, altro bagno doccia Bagno doccia Gardenia Gardenia, top, fenomenale Mi piace un sacco Wow Vedete Questa è la gardenia Top, topissimo Poi, ce n'è 400 mille di prodotto Poi, due flaconi, due doppioni di Fructis Garnier Antiforfora Per 250 mille di prodotto Per un paio di 12 mesi Anche questo mi stra-piaciuto Top, top, fenomenale Mi lo aveva bene per capelli Tutto a posto Poi, anche questa Venus Intimo Ultra delicato Estratto di malva Vabbè, le ce trovi Perché è talmente piccolo Che non si legge bene Ma vabbè E questo Mi ci sono trovata benissimo Anche se con quello dell'Eurospin Mi ci trovo bene lo stesso Perché Non lo so È meglio di questo Non Questo non voglio Adesso demonizzarlo Questo prodotto Ma Quello dell'Eurospin È ancora di più Migliore Non saprei come Spiegarmi di meglio Poi Garnier Skin Active Questa è la mia acqua Come sempre Poi sapete La mia acqua preferita Micellare Ed è Quella che Deterge Strucca E idrata Per pelli sensibili In effetti è vero Viso Occhi E labbra Senza risciacquo Ma no Io risciacquo sempre Perché dentro All'interno Come dicono tutti Ma è la verità C'è del sapone Quindi è sempre Bene risciacquare Dice qua Concellare Sì Tutto in uno Io rimuovo tutto il mio capo Però vado sempre Di un gel detergente A base oleosa Tipo acqua alle rose Top Buonissima E in un attimo Faccio la doppia Come dico io Sempre la doppia Deterzione Basta ragazzi Allora Questa era La mia La mia busta Definiti La busta Non c'è più niente Dentro Io vi lascio E ci vediamo Perché no Durato pochissimo Quanto è durato Tre minuti neanche Pochissimo Ehm Bene Mettetemi un like Se vi va Un commento Iscrivetevi E attivate la campanella Per il prossimo video Aggiornamento Su mio canale youtube Ciao Presto E buon Presumente di giornata Ciao